L'emozione era grandissima per me, soprattutto perché dopo tanto tempo posso aiutare la nostra squadra e pure per me personale era un'emozione grande perché posso giocare ancora a calcio che mi piace molto. Sicuramente fuori dal campo era mia famiglia, i miei bambini e mia moglie, i miei amici e pure il staff tecnico, il staff medico che mi ha aiutato molto. Non voglio dimenticare nessuno, voglio ringraziare a tutti che mi hanno aiutato. Secondo me mi sto bene ma mi mancano un po' minuti del gambo. Il mio obiettivo è, ho metto sempre prima l'obiettivo di squadra che è tornare a Serie A, ma personale il mio obiettivo è giocare ogni partita più meglio e giocare più possibile. Voglio ringraziare il Presidente Zapparini e pure il staff tecnico che mi hanno dato un'occasione per giocare ancora. A Perugia abbiamo giocato una partita molto difficile, una partita molto dura. Abbiamo perso i punti ma dobbiamo guardare avanti e dimenticare questa partita perché solo così possiamo fare passi avanti. Adesso siamo in ritiro qua e per me è una cosa giusta perché così possiamo lavorare ogni giorno, possiamo stare uniti, insieme e possiamo risolvere i problemi che abbiamo dopo tre sconfitte e secondo me solo insieme possiamo fare cose giuste. Sabato a Vercelli, già ho detto, soprattutto dobbiamo lavorare qua bene, dobbiamo preparare la partita bene e dobbiamo fare un risultato positivo per noi, per i nostri tifosi e per tutti e così dobbiamo prendere la fiducia ancora.